benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi su youtube torna partite impossibili la nostra playlist estrema sul canale rosso dove andiamo a mostrarvi alcune partite particolarmente interessanti e diciamo combattute che spesso faccio durante le live la sera su twitch qui siamo con la lepanto una nave da battaglia italiana che a me piace parecchio come sapete è la mia nave preferita dell'intera linea pesante della regia marina e tra l'altro qui capita fagiolo perché comandanti shard come sapete è la mia mappa preferita in assoluto questa è casa mia io conosco ogni centimetro quadrato di questa mappa ogni infratto ogni isola ogni golfo ogni zona dove si può sfruttare e in questa partita vedrete esattamente proprio questo una perfetta conoscenza della mappa unita a un perfetto collocamento per cercare di sopperire alle grandi lacune che porterò poi dimostreranno i nostri alleati la partita sarà particolarmente combattuta specie nella seconda parte spero che vi possiate divertire come potete vedere siamo in situazione di ranked con paolo miglio e greningen contro z44 e ciumu quindi già qua capite che loro hanno una maggiore capacità stealth e di torpedo piuttosto evidente santander contro hector effettivamente radar nostro contro una potente nave smoke avversaria che fa pendere dalla nostra parte il vantaggio ma il nostro santander sarà diciamo non propriamente ottimo e poi georgia rapcret e lepanto contro soyuz doppia pommer ahimè nonostante la presenza della georgia che è una fortissima nave diciamo che nella sua completezza loro sono molto più resistenti e considerando che hanno due battesci dotate di siluri importanti come la pommer a corta distanza potrebbero avere la meglio anche se comunque anche noi diamo la rapcret che può difendersi se guardate qua la prima cosa da fare quando si gioca su una nave su una ranked è mai isolarsi mai isolarsi con una corazzata perché potreste essere presi di mira ma soprattutto potreste mettere in difficoltà i vostri leati che poi in un secondo momento potrebbero ritrovarsi in netta inferiorità numerica ci facciamo quindi alla zona centrale perché effettivamente dobbiamo capire come andrà a schierarsi gli avversari e la minimappa ci aiuta subito in questo frangente subito capiamo che davanti a noi c'è il ciumu potenziali dip torpi in arrivo ma qua ovviamente il radar nostro entra in azione e il ciumu ora comincerà a subire diversi colpi qua fondamentale la posizione del radar cruiser alleato che va a aiutare in questa circostanza anche se poi vedrete che effettivamente avrà fatto solo unicamente questo qui il ciumu un po ci frega perché se guardate è sempre quasi furbo ma non so quanto questa manovra sia effettivamente volontaria finge di partire poi rallenta e quindi i nostri colpi da 381 vanno tutti a caccia dei crostacei nell'arcipelago il ciumu però ovviamente non può riuscire a schiamparla contro un focus di grenning rapportate secondarie e anche del santandere quindi viene affondato riesce però a lanciare i dip top qui noi viriamo a sinistra perché ci aspettavamo che prima o poi potesse lanciare anche contro noi questi luri e quindi solo in un secondo andato ho visto che li ha lanciati tutti contro il santander e tutti contro la rapcret a questo punto cominciamo a cercare delle linee di tiro contro i bersagli che mostrano maggiormente la fiancata se guardate qua il tiro particolarmente teso della nave italiana ha impedito ai proiettili di superare l'isolotto questione di centimetri ovviamente non tutte le navi hanno oltre 860 metri di balistica come ad esempio la Lepanto quindi in questo caso sta particolarmente strana il tiro su questa nave la pommer ovviamente va in isolamento l'hector va a conquistare il cave di a che è totalmente libero nelle mani dei nostri nostri avversari perché non c'è nessuno di noi in quella zona e quindi andiamo nuovamente sul primo bersaglio che mostra il broadside ovviamente alziamo il tiro perché sapete bene che i SAP preferiscono colpire maggiormente sulle sovrastrutture per far più male ma in questo caso la pommer incassa benissimo grazie al ponte e alle gira a verata sinistra i nostri 381 a questo punto cosa facciamo ci uniamo alla nave alleata più vicino ovvero il paolo emilio e andiamo ad attaccare quello che il cap in questo momento che dà potenzialmente un vantaggio alla squadra avversaria siamo ormai con i proiettili SAP in canna quindi non cambiamo con gli api anche perché comunque ci sconviene sui SAP sono ottimi anche sui destroyer anche se hanno un calibro enorme quindi non sono efficaci magari come quelle di un venezia o di un incrociatore e qua il paolo emilio cominciava a mostrare i primi limiti perché un destroyer che prende un stilure in questo modo contro un hector capite benissimo che probabilmente non è un giocatore così sveglio la pommer nemica vede arrivare il paolo emilio e decide accrociare perché può comunque puntare sul sonar della nave avversaria alleata e di conseguenza il nostro piccolo destroyer ora è due contro uno anche qua il paolo emilio ha dimostrato una pessima conoscenza delle navi avversarie perché avrebbe dovuto sapere che sia il pommer che l'hector sono dotati di sonar e attaccare con un destroyer come il paolo emilio in quella zona così stretta adesso significa essenzialmente suicidarsi volontariamente ed è quello che sta accadendo perché i colpi dell'hector e i colpi secondari della pommer stanno letteralmente facendo a pezzi il paolo emilio che cola a picco il vantaggio iniziale che avevamo grazie al fondamento del ciumu è praticamente saltato e dall'altra parte il sbagliato posizionamento del santander che ha spinto finendo poi sotto il crossfire di hector e pommer nemiche ha causato anch'esso l'affondamento quindi da un vantaggio di una nave a zero ora siamo sotto noi di una nave con diversari che tra l'altro stanno per conquistare anche il cap di a a questo punto la cosa migliore da fare è non prendere decisioni affrettate questo perché la partita si può sempre vincere anche quando si è tra i due contro due quattro contro due anche quando un nemico ha il doppio delle vostre navi la si può comunque vincere perché le ranked vi insegnano una cosa sono battaglie dove si può velocemente ribaltare il risultato controllando i cap ed è per questo che non ce la stiamo filando ora noi ci aspettavamo che l'hector potesse spuntare prima o poi a sinistra ma la cosa non avviene a questo punto possiamo solamente trovare un'altra linea di tiro e colpire a tutta forza sulla pommer che questo momento sotto le secondarie della georgia e della rapret alleata andare a destra sarebbe sbagliato perché ci potremmo trovare faccia a faccia con la pommer lei c'è i siluri e noi no quindi una via di fuga di muoverla per forza ecco perché stiamo privilegiando la pruna in allontanamento per evitare i potenti siluri teutonici colpo sulle sovrastrutture della pommer in piena sap facciamo quello che possiamo perché comunque la pommer è molto resistente ma soprattutto ha una era angolata in modo tale da evitare la maggior parte dei nostri colpi e giù di secondaria da 90 e 150 passa millimetri viene portato l'affondamento sulla nave avversaria a questo punto cosa fare ci sarebbero due opzioni la prima è andare a prendere il cap ok e quindi potenzialmente affrontare l'hector che però ha i siluri e ha un consummate pazzesco quindi potrebbe tranquillamente portarci in kiting lanciandoci siluri senza sparare e sarebbero la cosa più intelligente cosa ci darebbe un leggero vantaggio di basi ma se guardate comandanti siamo 1-1 e il punteggio è quasi pari non c'è la necessità di prendere per forza una base quindi la cosa migliore adesso è girare la nave puntare a nord e andare a ricompattarsi con la squadra alleata in modo che possiamo massimizzare i danni contro gli avversari in spinta ovviamente il grinding è ormai in fin di vita anche perché se guardate è andato a suicidarsi contro la z44 la soyuz una nave senza siluri che va ad accorciare su una nave da battaglia ditemi voi che senso ha anche qui si capisce ancora una volta lo scarsissimo livello di esperienza e di capacità che hanno i giocatori anche nelle battaglie classificate come queste arrivano ovviamente i siluri dell'hector erano scontati l'hector tra l'altro non è assolutamente un giocatore stupido perché noi pensavamo che stesse pensando di restare su a invece non lo sta facendo si sta anche lui ricompattando sul cap di b unendosi alla squadra nemica che però sarebbero i suoi alleati a questo punto pensiamo che sarà la giorgia acquistare il cap di a di conseguenza andiamo a dare il cambio alla rapcret che però se guarda sulla nostra destra tra poco verrà inquadrata ha usato troppi hp ha spinto troppo di conseguenza ha preso tantissimi danni e ora in avaria di punti vita e considerando che la sojuts avversaria è quasi full vita se dovessero andare a incrociarsi sarebbe ovviamente un affondamento scontato per la nostra purtroppo disgraziata nave tedesca ovviamente la z44 nemico dà un vantaggio enorme alle squadre avversaria perché permette di avere uno scouting completo mentre i nostri dd sono già da un pezzo sul fondo dell'oceano di conseguenza non possiamo fare altro che accorciare su b e cercare di andare a levare una cosa di difendere una base che in questo momento l'unica cosa che ci tiene ancora a galla se guardate la rap ora intelligentemente va in allontanamento ma ovviamente non può staccarsi né dalla sojuts né dallo z che sta sicuramente navigando vicino noi e tiene spottati sia noi che la rapata avversaria intelligentemente lo z non usa e non usa i cannoni lascia che siano i suoi alleati a sparare e la corazzata tedesca è affondata due contro quattro con una base pari e loro che hanno il vantaggio di avere il destroyer è a dir poco una partita disperata anche se comunque grazie al fatto che siamo rimasti comunque un che è pari per tanto tempo ricordatevo sempre gestite bene le vostre basi è importante ma poi vi darò qualche consiglio a fine video non possiamo fra l'altro che andare su b e impedire che il nemico scappi via quel vantaggio di basi lasciando che siano poi loro magari incentivati col fatto che hanno il doppio delle nostre navi ad attaccare ricordatevi sempre che chi attacca rischia di più perché perché chi attacca prende l'iniziativa ma lascia anche che siano gli avversari a potersi difendere e se riuscite a difendervi bene al centro mappa ed è possibile su shard vi assicuro che è una lotta intrincea nella quale potreste anche avere la meglio se guardate abbiamo usato la cortina fumogena per scomparire per un po' dal destroyer che è dietro un'isola adesso quindi non ci può spottare la pommer ancora non lo sa ma sta finendo di una trappola perché sta finendo sotto il crossfire nostro e della georgia lei viene avanti è un grosso errore che pagherà caro passiamo probabilmente ai proiettili a più perché questa distanza fanno molto più male dei proiettili sap normali linea di galleggiamento e cominciamo a levare punti vita finali alla pommer qui se guardate lo z fa la cortina fumogena all'hector e come se ci dicesse no da qua non passi ci sono io arriveranno i siluri rallentiamo spudoratamente aspettiamo che la pommer venga affondata questo per non finire sotto il sonar dell'hector e come sapete è un incrociatore leggero australiano con un sonar potente e cerchiamo di portare l'ultima kill sulla pommer la georgia ci anticipa a saperlo risparmavamo la salva a questo punto fermi tutti ci basta entrare semplicemente per non far fare punti agli avversari dato che ormai la pommer affondata a sinistra ci permette tra poco di andare completamente invisibili avarie a manetta in azione alziamo l'aeroscout per magari capire dove sta andando l'hector oltre l'isola o magari se la so sta già sulla nostra fiancata e in questo modo viriamo leggermente a destra in questo modo non solo potremo sparare indisturbati sull'hector ma potremo anche difenderci dagli scontatissimi siluri del destroyer avversario che è ancora lì vicino a noi guardate un po' com'è la prua è praticamente quasi parallela anzi perpendicolare allo scoglio di conseguenza i siluri dello z non ci possono raggiungere e ci passano solo la nostra fiancata di sinistra qui l'hector comandanti con questi colpi non può assolutamente impensierirci e considerando che è in allontanamento non ci può spottare lo z esce è spottato per un attimo vediamo l'hector in questa circostanza lo z scompare per un attimo altri siluri evitati sempre sfruttando il motore andando avanti dietro non date mai una velocità netta altrimenti finirete a gambe all'aria a questo punto spariamo solo a prua perché? perché è la zona più pesante dell'hector in questo modo i nostri colpi non andando in overpen e infatti l'hector è aperto in due come una scatoletta colpendo con dei canoni che hanno così alta penetrazione come i quelli della Lepanto contro bersagli più corazzati avrete maggiori possibilità che il colpo non vada in overpen e colpisca la cittadella e la prua e la poppa sono i punti più resistenti perché faticano di più a livello di angolatura a entrare su un cruiser l'hector forse non lo sapeva ma ci ha fatto un grande favore a questo punto andiamo a destra lo z chiaramente ha il siluri in countdown la side sta attaccando la Georgia a questo punto cosa fare? o andare a prendere il cap di C e sarebbe la scelta più sbagliata cosa dobbiamo fare? dobbiamo dare una mano alla Georgia perché? perché lei ha pochissimi punti vita e la Sayuz è quasi full vita a questo punto cortina fumogena andiamo invisibili a questo punto non solo evitiamo i siluri dello z ma lo z non può segnalare alla Sayuz quello che noi stiamo facendo e quindi possiamo attaccarla alla fiancata se decise di aggredire la Georgia ed è quello che la Sayuz sta facendo la Sayuz sta finendo in una grossissima trappola e tra l'altro è anche un giocatore ucraino quindi affondare gli ucraini personalmente che ho cominciato a odiare in World of Warship è sempre per me sinonimo di enorme e gigantesca gioia mi sono convinto che su questa pada ha sorriso se sta guardando il video aspettiamo che ovviamente lui superi la scogliera e vada completamente broadside la Georgia ha funzionato benissimo come diciamo esca e comandanti Sayuz completamente aperta in due da 4 contro 2 per gli avversari a 2 contro 1 per noi la Georgia è ancora in piedi molto bravo qui a non farsi ingolosire e andare in reverse in modo da evitare che il nemico potesse colpirlo speronarlo o affondarlo più velocemente e a questo punto cosa fare? fare la scelta più intelligente possibile che possono fare due battleship quando mancano 6 minuti alla fine e mancano solamente 250 punti da fare sulla classifica la cosa migliore da fare sapete qual è? è scappare comandanti scappare questo perché lui ha i siluri forti è quasi in fin di vita quindi li ricarica anche più velocemente andiamo 2 cap a 1 non è possibile per lui andare sul cap di A perché è troppo lontano può solamente o affondare noi o cercare l'affondamento oppure cercare di conquistare il cap di B ora qua la Georgia che avevamo mal giudicato all'inizio perché c'era venuta contro e pensavamo che fosse il classico Pirla che magari la trovate in un super contento e non la so giocare perché quella nave è potentissima la Georgia è una delle migliori battleship tier 9 in assoluto insieme alla Musashi a questo punto utilizziamo l'isola per scappare per scomparire cerchiamo di capire dove è andato il destroyer anche perché lui è comunque che con il NRPF se guardate siamo all'occhietto e lui sa la direzione che stiamo prendendo andiamo verso nord e ci stacchiamo la Georgia ci ascolta l'abbiamo scritto in chat e lo sta facendo sta facendo esattamente il movimento che gli stiamo dicendo questo perché? perché se riuscirete ad essere di aiuto ai vostri alleati e dimostrerete di essere più bravi dei vostri alleati questa cosa spesso può capitare magari se giocate bene loro finiranno per fidarsi di voi e se finiranno per fidarsi di voi faranno esattamente quello che gli chiedete perché se no che siete voi la nave che è detta ai ritmi della partita come in questa circostanza anche se poi comunque i punti alla fine partita non ci premieranno così tanto come sembra però oggettivamente questa partita comandanti l'abbiamo vinta noi anche se la Georgia ci ha dato un po' di aiuto i meriti principali sono comunque i nostri se guardate una cosa importante avete visto in pochissimo tempo quanto siamo passati da 740 punti 730 a quasi 900 questo perché i punti nelle ranked vengono generati molto più velocemente quando conquistate un cap ecco perché è sempre importante non allontanarsi mai dalle basi questo perché in questo modo avrete sempre la possibilità di andare a conquistarle o a ingaggiarle lasciando quindi a zero o con l'impossibilità di creare punti agli avversari e tenendoli sempre a contatto con voi anche se magari in quella circostante dei vostri alleati stanno venendo affondati o sono già stati affondati chiaramente ora lo Z per avvistarci non può che essere a sud perché sulla fiancata di destra siamo coperti dall'isolotto quindi esattamente in questo momento è sulla nostra poppa ed è la posizione peggiore che può avere un destroyer contro una corattata per in quel modo la corattata è avvantaggiata nell'evitare ovviamente il torpedo guardate un po' in pochissimi secondi siamo già a 950 cosa vuol dire che ci basta un solo cap per vincere la partita quel cap di A che lo Z non potrà mai raggiungere nemmeno se mancassero 3 minuti alla fine perché è troppo lento per raggiungere quella base noi andiamo ancora in allontanamento e ormai la partita è praticamente vinta dopo questo match ho preso ben 5 punti karma dopo questa partita sicuramente gli altri alleati che magari sono stati anche affondati che hanno giocato molto male come i nostri destroyer e il Santander avranno sicuramente apprezzato attenzione sempre al cap central di Shard perché è importante contestarlo ma non tutte le navi possono farlo e se con un Santander andate lì contro due batteship farete una bruttissima fine perché è vero che recupera punti vita grazie al consumabile speciale ma li perde anche molto velocemente signori vittoria portata a casa questo è il punteggio della partita potete vedere anche doppio devastating strike Dreadon ovviamente perché abbiamo tancato parecchio e ovviamente la medaglia ai cale perché smette la nave che ha fatto più danno in questo match questo è lo score e invece di Tim se guardate non ci ha premiato così tanto il fatto di essere trattati così incisivi in partita però comandanti il danno generato contro le corazzate viene sempre un po' calcolato in maniera diversa dal matchmaking dall'algoritmo che determina poi i punteggi fare danno sui destroyer mi produce molto di più oltre che conquistare le basi alla quasi DB a un certo punto l'abbiamo praticamente conquistata noi anzi l'abbiamo difesa più che altro comunque brava la Georgia diciamo Greiningen così così anche se quella manovra succede sulla Soyuz ha vanificato tutto il suo lavoro pessime le partite di Paolo Emilio Rapret il Santander sicuramente a parte premere il tastino per realizzare il Ciumu non ha fatto assolutamente nient'altro il disgraziato con l'incrociatore al giro questo è una serie di consigli che mi sento di dare se giocherete le battleship sulle ranked e in sfondo ho scelto la Roma non a caso perché la Lepanto comunque era la protagonista del video questi sono i miei consigli e magari se giocate le ranked avete poca esperienza di amare le navi da battaglia indipendentemente da quelle che siano le navi e quindi o sonar secondarie cecchine incendiarie questi sono consigli utili per tutte le classi d'anzi delle sottoclassi e delle corazzate evitare l'isolamento specie a inizio partita comandanti non andate mai da soli non andate mai sul lato debole c'è da sempre di unirvi in gruppo perché uniti in gruppo potete anche sfruttare i cannoni avversari potete sfruttare i consumabili avversari isolarsi è sempre sbagliato in questa circolazione con le ranked tier 9 ma ancora peggio quando sono i sommergibili o le porte aeree in acqua quindi mai navigare da soli non smettere di osservare il posizionamento dei destroyer avversari è fondamentale avete visto come inizio partita lo stavamo sempre guardando e abbiamo sempre guardato lo z nello spostamento questo perché perché loro hanno i siluri comandanti e il modo più facile per fare danno a una nave da battaglia sono i siluri e non solo il flooding che poi viene generato quindi comandanti guardate sempre dove vanno a mettersi i destroyer avversari e considerate che da quella parte potrebbero arrivare i siluri che vi fanno malissimo occhio sempre alla minimappa con i destroyer nemici dove quando concesso usa le isole come scudo contro i siluri avversari per recuperare punti vita ve l'ho fatto vedere contro lo z e contro l'hector giocando un po' di motore andando avanti e indietro fermandosi quando loro non se lo aspettano sapendo che loro sono dall'altra parte e se lui arriveranno da lì le isole vi permettono di scomparire recuperare punti vita utilizzando il repair party prendere ossigeno conquistare la base evitare il torpedo evitare gli incendi evitare il focus fare avversario le isole quando ci sono in alcune mappe specie vicino ai cap e avete la possibilità di farlo sono le vostre migliori amiche per prendere tempo e per prendere ossigeno e far ricaricare i vostri potentissimi countdown difensivi cerca di abbattere velocemente i cacci torpedinieri e privilegiare bersagli prossimi all'affondamento è fondamentale far capire chi comanda in acqua non conta tanto all'inizio dove prendi le basi ma affondare gli avversari se affondi gli avversari tu levi a capelli avversari levi punti agli avversari levi soprattutto cannoni e siluri agli avversari quindi cercate sempre di uccidere il target non lasciate che possa scappare con 5 10.000 3.000 punti vita perché potrebbe tornare magari con le ricariche ammigliorate come una torpedo boat se adriano in rush potrebbe recuperare punti vita invisibili e tornare poi quando magari ha le capacità di affrontarvi quindi ragazzi focus fire vuol dire finire i target che sono lì in fin di vita e farlo con i vostri atti quindi cerchete sempre di privilegiare i target che hanno meno punti vita in modo da poterli spedire sul fondo dell'oceano che non possono più impensierirvi in un secondo momento durante il vostro match non allontanarti mai troppo dalla zona di cap siete lenti a parte alcune battici particolari come le francesi o la Georgia stessa che è velocissima la maggior parte delle navi di battaglia sono spesso le più lente in acqua quindi se vi allontanate troppo e magari poi vi serve un cap per riuscire a pareggiare o recuperare i punti vita o recuperare i punti partita non riuscirete a farlo quindi sempre giocare vicino alle basi è importante anche perché lì c'è il grosso della partita è lì che servono i vostri canoni è lì che servono i vostri HP quindi non giocate a 20 km come fa qualcuno come se fosse una normale random battle cercate sempre di giocare vicini ai cap certo magari non dentro se sapete che ci sono delle torpedo bote magari non avete un sonar come in questa circostanza ma lì sempre lì vicini non mai lontano oltre 7-8 km da un cap in questo modo sarete sempre utili alla vostra squadra quando possibile costruisci nuove linee di tiro come abbiamo fatto con la Georgia se guardate la Georgia si è messa frontale a un certo punto alla Soyuz noi abbiamo preso il fianco gli abbiamo colpito e gli abbiamo fatto male ricordate sempre che la battleship a parte contro i cruiser come avete visto contro l'hector avversario sviluppa sempre il massimo danno quando può colpire la fiancata di un avversario in questo gioco ricorda un po' i carri armati di World of Tanks di conseguenza costruire una valentina vuol dire riuscire a colpire avversari che mostrano il brozzo è perché magari sono impegnati contro i vostri alleati come ha accaduto sulla Pomer come ha accaduto sulla Georgia come ha accaduto ad esempio anche su altre navi in altre partite quindi di conseguenza cercate nuove linee di tiro senza allontanarvi troppo che possono prendere di sorpresa i vostri avversari che non si aspettano quel tiro che magari come nel caso della Soyuz potrebbe essere assolutamente letale ricorda sempre che sei tu quasi sempre la nave con i maggiori punti vita e quindi che sopporta maggiormente i colpi avversari è importantissimo questo forse è uno dei consigli più importanti di questo video comandanti siete voi la nave che recupera più punti vita siete voi la nave la classe navale che può tancare di più indipendente che siate un indomitable o una corazzata più pesante come la Pomer o quelle intermedie come le americane siete voi il carro armato del mare siete voi che avete la responsabilità di prendere più danni sì comandanti prenderne di più perché perché gli altri non lo possono fare un destroyer nella maggior parte dei casi non recupera i punti vita un cruiser può essere smantellato in pochi colpi voi avete le armature più spesse voi avete le reparti più potenti voi avete il maggior possibilità di recuperare i punti vita voi avete il pool vita maggiore è vostra responsabilità prendere più danni perché gli altri non lo possono fare è il vostro dovere in partita essere più spregiudicati perché perché siete voi che devono colpire maggiormente siete voi che avete questa responsabilità non dimenticatevelo mai se è finita una partita i vostri alleati sono morti e voi siete full vita è colpa vostra è colpa vostra perché voi non avete preso i punti che invece hanno affondato i vostri alleati ricordavelo sempre siete sempre molto autocritici con voi stessi altrimenti non migliorerete mai e questo è un consiglio in particolare ai giocatori italiani perché veramente sono molto 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 sbagliati in tutto questo sono molto rancorosi soprattutto non sopportano le critiche e se non sapete autocriticarvi farete sempre delle brutte prestazioni e non vi renderete mai conto magari di quanto è scarso il vostro livello di combattimento e questi sono i miei consigli su Shard e in particolare comandanti sulle navi da battaglia in Ranked spero comunque che li abbiate apprezzati comandanti come sempre vi ricordo che siamo online su Twitch durante la settimana quelli sono tutti i vantaggi che potete avere se vi abbonate vi ricordo che con Amazon Prime collegandolo a Twitch ottenete Prime Gaming non costa niente vi abbonate gratuitamente e obbrigherete Amazon a darci un piccolo contributo mensile che ci permette di mandare avanti tutto e di riparare il computer quando qualcosa si guasta o la postazione in particolare oltre che fare dei video sempre migliori grazie sempre comunque a tutti quelli che decidono di farlo perché veramente è il modo migliore per aiutarci considerando che YouTube dà veramente gli spiccioli tipo un euro ogni mille visualizzazioni quindi è veramente una roba indecente anche per chi fa pochi video come noi quindi se volete veramente dare una mano anche se magari non seguite le live ma avete l'Amazon Prime e non lo usate in due minuti lo collegate a Twitch ogni 30 giorni vi potete abbonare sempre gratis vi ricordo che il rinnovo è manuale quindi va fatto di nuovo sempre gratuitamente però va rifatto perché il rinnovo non è automatico e veramente darete una mano e interrete nella Blazzy Squad quindi avrete una serie di vantaggi oltre che i badge di riconoscimento e la mia infinita gratitudine oltre che quella del bistifero grigio che è da qualche parte in casa in questo momento Comandanti grazie ancora di tutto spero che il video vi sia piaciuto se avete domande fatele pure sotto nei commenti noi ci risentiamo possibilmente sabato se la Wargame mi riderà al press account con una nuova nave in uscita oppure con l'incrociatore Piemonti che prima o poi dovrò recensire anche qui su YouTube già stato scritto e dal leggendario ammiraglio grigio del lago di Garda è tutto come sempre alla prossima buona caccia